La Confartigianato in questo periodo si è occupata del caso E45 facendo da organo mediatore tra le istituzioni e quelli che sono stati i soggetti danneggiati da questa situazione. Grazie all'intervento dei sindaci della Vallata Valtiberina e all'assessore Ceccarelli e Presidente Rossi abbiamo ottenuto tre linee di intervento. La prima riguarda l'autotrasporto con un contributo e dovremo fare le domande entro il 31 luglio. La seconda riguarda aree di servizio e bar e ristoranti, tutti coloro che lavorano lungo l'asse dell'AE45 e per loro ci sarà un importante contributo per il ristoro dei danni subiti. A partire dal prossimo 18 aprile sarà aperto il bando microcredito tasso zero della Regione Toscana, calamità naturali in favore di tutte le imprese danneggiate a seguito della chiusura dell'AE45. Sostanzialmente andrà a finanziare due tipi di intervento, il primo che riguarda il calo di fatturato che hanno subito le imprese a seguito della chiusura dell'AE45 e il secondo riguarda il sostenimento di maggiori costi per l'approvvigionamento di materie prime e costi di trasporto. Il finanziamento microcredito tasso zero verrà erogato direttamente dalla Regione Toscana.